Starfield, 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 Starfield. Non si parla di nient'altro se non della nuova IP di Bethesda, Starfield. E anch'io sono stato artefice, diciamo, nel mio piccolo di questa attenzione. Ho tradotto alcune interviste, a voi vi sono piaciute davvero tanto, e molti di voi hanno appreso dettagli che molto spesso possono sfuggire in queste interviste, ed erano anche delle notizie molto su cose. Ma c'è una cosa che dobbiamo assolutissimamente vedere, osservare e parlare insieme. Il futuro di Bethesda. Perché Starfield deve assolutissimamente risollevare il morale e anche l'economia di Bethesda a livello generale. La reputazione deve fare bene sia per se stessa dal punto di vista della reputazione sia per Microsoft, che ovviamente adesso ne detiene i diritti. Lo vuole e vuole che il videogioco sia un titolo come Skyrim. Cioè, tanti anni di tantissime, tantissime attenzioni, mod, possibilità per i player di rigiocarlo in continuazione, ma soprattutto aggiornamenti, supporto come sta ricevendo Skyrim. Perché Skyrim, ancora tutt'oggi, nonostante il tempo che passa e anche Fallout, riceveranno importanti update. Basti pensare agli store mode che Bethesda ha intenzione di portare all'interno dei suoi titoli. Questioni di cui abbiamo già ampiamente parlato. Per cui, quest'oggi, con un occhio critico, guardiamo cosa dovrà fare Starfield. Vedremo i prossimi titoli in uscita per Bethesda. Dove punterà? Perché nell'intervista, negli showcase, che sono andato a tradurmi, c'erano tante nozioni che decideranno le sorti e i titoli di Bethesda da oggi, 2023, fino al 2030. Benvenuti su Top of Gaming. E continuiamo il nostro discorso parlando di che cosa deve fare Starfield. Starfield deve assolutissimamente essere non solo un bel titolo, ma dovrà portare all'interno di Bethesda, all'interno del cuore dei videogiocatori, quella passione, quell'amore, quella cura, quei dettagli, quelle tante possibilità che ci hanno fatto innamorare di titoli come Fallout e Skyrim. Questi titoli sono rimasti nel cuore delle persone e ancora tutt'oggi sono giocatissimi dalle persone. Perché? Perché ancora qualche segretino ce l'hanno, perché le possibilità ce le hanno, perché c'è il supporto dietro le quinte di Bethesda, perché ci sono anche i modder, che, insomma, bisogna anche dirlo, hanno permesso ai player di rivivere le avventure e riscriverle come meglio volevano. Ed ecco che quindi Starfield porterà, quando, dalla sua uscita in poi, anche un pacchetto di Season Pass. Noi sappiamo, ovviamente, che ci sarà già, è già stato annunciato, il primo DLC. Non sappiamo quando uscirà, molto probabilmente uscirà nel 2024, a distanza di 4-5 mesi dall'uscita del titolo principale, ma alcuni ipotizzano anche di più, e, appunto, Bethesda e anche Microsoft sanno perfettamente che devono invogliare i player a restare. E lo faranno, ovviamente, con tante meccaniche, tra cui, appunto, un Season Pass, DLC, contenuti, supporto e mod, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Se tutto andasse come descritto, come Microsoft e Bethesda si aspettano, dovrebbe essere un boom eccezionale di vendite. Davvero, ragazzi, si aspettano una vendita nelle prime settimane da milioni di copie, che, ovviamente, farebbero bene al cuore di Bethesda, all'anima di Bethesda e alle casse di Bethesda. E Todd, durante le sue interviste, ha proprio espresso chiaramente che ci sono tanti progetti. Vi basti ricordare, semplicemente, la serie TV di Fallout. E perché, sì, verrà in qualche maniera supportata dalla stessa Bethesda e dovrà essere, in qualche maniera, vista o comunque supportata. Vi ricordo, inoltre, che c'è tutta la parte di Starfield da tenere sotto controllo. Vi ricordo che si è parlato della versione Next Gen di Fallout 4. E questa è una questione che forse alcuni di voi si sono completamente e totalmente dimenticati. Dopodiché ci sono tutte quelle IP, tutte quelle software house, come ad esempio quelli che hanno dato la vita a Wolfenstein, a Doom, che stanno lavorando, probabilmente, ad alcune IP molto particolari. c'è da pensare al videogioco di cui vi ho parlato poco tempo fa, quello di Indiana Jones, tanto voluto da Todd. Dopodiché c'è da pensare a Fallout 76, supporto che non mancherà di proseguire anche nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Lo stesso Todd ha deciso che quel mondo, anche se, diciamo, molti di noi l'hanno reputato, e molti di noi non ci entreranno più, l'hanno reputato, un titolo completamente perso, perdibile, non buono, Metesna ha detto che continuerà a supportarlo. C'è anche The Elder Scrolls Online. Vi ricordo che è anche quello. i TLC e le espansioni, una ogni sei mesi, slash, sette, slash, otto, ci sono. Dopodiché c'è un grande, enorme progetto, quello ovviamente di The Elder Scrolls 6. Ed ecco che ci addentriamo in questo mondo. In questo caso prendo le notizie di HeavyEye.it e vediamo che se ne è parlato davvero molto, in poco tempo. 25 giugno, The Elder Scrolls 6, forse esce nel 2028. The Elder Scrolls 6, 17 anni dopo Skyrim, per via di alcune dichiarazioni sulla storia. Oppure ancora, The Elder Scrolls 6 esce prima del previsto, gli avvocati di Microsoft, dicono, nel 2026. Essenzialmente fra tre anni. Se ne sta parlando tantissimo. una data certa, comprenderete che non ce l'abbiamo. E non sarà questo il video nella quale staremo a decidere se il titolo dovrebbe uscire nel 2026 o nel 2028. Per quello che mi riguarda, il titolo può prendersi tutto il tempo del mondo. Basta che ovviamente sia ben fatto. Cosa vuol dire ben fatto? Beh, che comprenda le cose buone che verranno implementate in Starfield e anche le cose cattive. perché io sono sicuro che il titolo sarà sicuramente godibilissimo Starfield in tutto e per tutto. Ma ci saranno delle pecche, ci saranno sicuramente degli aggiustamenti, ci sarà sicuramente qualcosa da ritoccare o comunque nuovi features da mettere. Insomma, il futuro di Bethesda, il futuro dei titoli di Bethesda e come e con che grandezza, quali saranno le features, quale sarà anche il tempo di uscita, essenzialmente dipendono tantissimo da come andrà Starfield e come andranno avanti alcuni altri progetti paralleli, come appunto la serie TV di Fallout oppure la versione Next Gen di Fallout 4 per appunto comprendere meglio i tempi di uscita del nuovo The Elder Scrolls 6. Immaginatevi che non vada bene dal punto di vista economico, che insomma bisogna ristrutturare, bisogna rivedere, comprendete che la data d'uscita di certi videogiochi sarà da vedere con il binocolo, quindi usciranno molte là. Se invece i titoli andassero bene, probabilmente potremmo vedere un'accelerazione di alcuni progetti, perché le idee sono buone, perché si possono mettere lì, perché ci sono più fondi, perché si può gestire la questione in altre determinate maniere con più programmatori, avete capito perfettamente. Starfield non è altro che un punto di partenza, una scaletta, un punto nuovo di rigestione di ciò che è Bethesda, ed è esattamente quello di cui stiamo parlando, il futuro di Bethesda. Da che cosa e che cosa ci riserverà? Ma qui, in questo video, noi saremo in grado di vedere così nel futuro? Assolutissimamente no, ma vi ricordo una questione. Toad è un fiume in piena, ultimamente, e con tutto quello che sta girandoci, grande attenzione su Bethesda, e che dal 23 al 27 agosto 2023, c'è il Gamescom. Anche lì, Bethesda e Microsoft hanno detto che saranno presenti, e sarà sicuramente fonte di numerose news, numerosi update, ma soprattutto un po' più di carezza su ciò che sarà e che saranno i titoli di questa importantissima catena di distribuzione di videogiochi. Insomma, Bethesda, un futuro luminoso oppure un futuro fatto di enormi incognite basate tutte, solo e solamente, su come andrà un unico titolo? Lo scopriremo, ne parleremo, spero vivamente che questo video vi abbia delucidato e vi abbia fatto comprendere come Bethesda abbia in mano tanti progetti differenti, grandi, importanti, e che si sta preparando al meglio. E io sarò qui a raccontarvelo, e voi come fate a sentire queste altre news? Beh, ovviamente lasciando un like e iscrivendovi. Alla prossima mega video. Ciao!